Oggi vi parlo di una sentenza recentissima della Cassazione del 17 gennaio di quest'anno con la quale la Cassazione si è occupata dell'assegno divorzile, stabilendo un principio importante. Nel caso concreto l'ex moglie ha ereditato due immobili e di conseguenza l'ex coniuge e il marito ha chiesto la riduzione dell'assegno divorzile ma la Cassazione ha negato all'ex marito questa riduzione dell'assegno divorzile. Stabilendo che l'assegno divorzile consente in concreto al coniuge, che è economicamente più debole, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo che ha fornito nella realizzazione della vita familiare. In effetti nel caso di specie, nel caso concreto, il matrimonio era durato ben 30 anni. La donna aveva interrotto gli studi universitari di medicina per dedicarsi completamente ai tre figli che erano nati nel corso del matrimonio e quindi aveva decisamente rinunciato alle sue aspettative professionali ed economiche.